Oggi è un grande giorno per la quinta stagione di Minecraftita Oggi è un grande giorno per l'umanità Per la prima volta un uomo andrà nello spazio Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo di nuovo su Minecraftita quinta stagione E oggi siamo pronti per andarcene nello spazio di nuovo Dopo la prima missione è andata effettivamente molto bene Siamo anche sopravvissuti al primo impatto Oggi andiamo a replicare la missione Apollo 13 La successiva Apollo 14 Cazzo E costruendo questa volta iniziando almeno a mettere le basi Per la base lunare, la base stellare Che andremo a costruire qua sopra Come ogni base lunare, base stellare che si rispetti Deve avere alcune caratteristiche che adesso andremo a prendere Allora deve essere fatta di ferro Mi hai Massimo ho già fatto la scorta di ferro Qua abbiamo un sacco di blocchi di ferro Mi serviranno dei pistoni Presumibilmente pistoni Redstone Repeater Hopper Oh beh gli hopper non ci faccio un cazzo attualmente Una leva però si vola voglio Ok questa è l'Eme Massimo Quello che disponiamo va va bene Porterò su anche qualche dispenser Perché non guasta mai Magari no vabbè qualche bottone no Ne sbatto nel caso di craft su Cest 14 chest Fondamentali per lasciare la roba Ovviamente volevo anche un po' di carbono 24 pezzi più roba Quindi posso tranquillamente buttarmi giù altri blocchi 5 blocchi Con questi ne possiamo fare altri 6-7 Tipo ecco 7 Infatti sono 36 blocchi E con 36 blocchi qualcosa vi datevi ci facciamo Voglio prendere anche un po' di torce Che attualmente non ho a disposizione Ok non ho il cazzo Non ho neanche Non ho lana a disposizione Oh la madonna Prendiamo anche un po' di obsidian L'Eme Massimo può sempre servire E che altro ci inventiamo Che posso servire su una base lunare Ci serve il minecart per la missione Poi forza raccogli Ah ecco un letto Un letto Un letto fondamentale Letto fondamentale per la base lunare Ok Successivamente che altro possiamo portare via Sto pensando Sto pensando Pensa Fri Pensa 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 Ti eri fatto una lista di tantissime cose Che devi portare via Non ti ricordi Un cazzo non è possibile Di nuovo Io devo stare più attento Porca mia Devo segnarmele le cose Mi ero fatto una lista lunghissima Della roba che devo portare via E attualmente Non è che io abbia grandissimi ricordi Ok la prima spedizione Sarà composta Da questi bellissimi materiali Voglio portare L'ultima cosa Di ferro saremo circondati Quindi non c'è problema L'ultima Utilità Ecco Un flint così Proprio a buffo Me ne voglio portare su uno Volevo portare su qualcosa Magari un'efficienza con breaking Giusto da lasciare sopra Come picca da lavoro Da poter utilizzare In vari casi Mi è venuta in mente Un'ultima cosa E poi Possiamo Tranquillamente partire Perché abbiamo anche riempito L'inventario Senza tranquilli Abbiamo già riempito L'inventario Porca troia Allora ci sono questi 8 pezzi di Cosa che possiamo per ora Lasciarli E prenderci Attualmente Attualmente Della Pelle Che può far sempre comodo Ragazzi ci siamo Stiamo per partire Ah ragazzi Allora si parte Ok Detta proprio bruta È così È la dura E cruda Verità Stiamo per partire Per una missione Dal risultato Incerto Ma che porterà Sicuramente No ok Non smetto Però Ok Si parte ragazzi È pronta la missione Piove anche Atmosfera meravigliosa Poi mi sono visto Tipo Allora è uscito Il seguito Di Independence Day Allora ho detto Ok va bene Mi riguardo Independence Day È sempre un'emozione Meravigliosa Ok io non ricordo Cazzo dove mettere Perfettamente E io non ho le rotaglie Cazzo la rotaglia Ma io non mi ricordo Tipo dove mettere Il minecart Infatti adesso Devo andare a cercare 3 2 1 Si parte Ok cazzo Io prendo sempre le botte Poi quando salgo qua sopra Siamo partiti comunque ragazzi Siamo partiti Ce ne stiamo andando In missione La missione Apollo 14 Stiamo partendo cazzo Siamo partiti Che spettacolo Meraviglioso Prendo una botta Sì una no Il che è clamoroso Ok ce ne stiamo andando sopra Con tutti i materiali pronti Per La varie Espedizioni ed esecuzioni Via Manname che botte Che sto prendendo Aspetta fatemi mangiare Che se no qua si muore malissimo E ci vorrà un po' Per arrivare a destinazione Perché contate che stiamo a 160 160 blocchi Dobbiamo arrivare A Tanti tanti altri blocchi Quindi sì ok Ci vediamo Siamo quasi arrivati Stiamo atterrando Ragazzi Perfetto Siamo atterrati Tantantantan Scendi Ok Oddio sì Oddio sì Ce l'abbiamo fatta di nuovo Perfetto La missione Ha funzionato Alla perfezione Perfetto Ok Da qui Ah dato che La macchina Entra in questo Cosa Tipo io vorrei Fare una roba del genere Da qui tipo Voglio fare una circonferenza Sì un cerchio Cazzo di cerchio In cui posso star tranquillo Che la macchina mi entra Ah tipo Ecco Questo è l'hangar Sopra Poi dovrò Ah io non ho Io porca troia Non mi son portato la roba Per Porca miseria Mi sono scordato Questa è stata una cazzata clamorosa Però vabbè dai Fotte sega Eh non ho portato il secchio d'acqua Io quindi tipo Per scendere E fare tutte le mie belle robe È un po' un casino Però questa è sicuramente La parte fondamentale Ok va bene Quindi Guardate che lui si dovrebbe fermare lo stesso Io posso tipo fare una roba del genere Saltare di qua Levare questo pure E gli ai massi Ma arrivati qui Loro si fermeranno lo stesso Quindi non è un problema Il fatto che io non abbia portato un cazzo di secchio È un grandissimo problema Ma Posso avere la soluzione Aspettate Se riesco a fare sta roba Sono un fenomeno Non so se Vi giuro Non so se è una leggenda metropolitana O meno Però io lo voglio fare lo stesso Dammi dei pezzi Dammi del Dammi del ferro Dammi del ferro Zitto È possibile secondo voi Cioè Era vero o finto Io non lo so Non so se fosse vero o finto Però So che ci voglio provare Senza lasciare nulla di intentato In questa cazzo di missione Ok Cioè Sembra proprio Da film Ma si riempivano Tipo Non lo so Non so se era di mod O roba varia Ho sentito sta roba Sarà vero o no Non penso sia vero Io tipo Posso aspettare qui le ore Probabilmente non è vero E allora sono un cazzo di idiota Perché Adesso già il problema Siccome me ne torno giù Il problema che Ho fatto tutta sta macchina Tutto stingombro enorme Per poi risolvere Praticamente un cazzo Il che è veramente ridicolo Come cosa Però Dai Pensa Ci deve essere pur un modo Per far sta roba Per scendere Come posso fare Ok Ok posso farlo So che posso farlo Lo possiamo fare Ok Vi spiego come Perfetto Dobbiamo arrivare Al punto più in basso possibile Di questo cazzo di posto Levati Ok grazie Sprecheremo un po' di ferro Ma non è un problema Ok Scendiamo Tac Adesso vado a metterci Il mio bellissimo pistone Perfetto Ci siamo Ok Adesso me ne devo andare Da qui praticamente Va bene Ho perso un altro blocco Fotte sega Facciamo così Ok E iniziamo a mettere roba E cosa consisterà La manovra Questo Tac Rompi il pistone Lo riprendi E tipo levi la leva Lo rimetti E ci metti un altro blocco sotto Posso fare un pistone normale Io oggettivamente Beh si penso di sì Cazzo io posso fare un pistone normale Hop Vediamo eh Beh legno Redstone Ferro Si posso fare un pistone normale Il che mi rimane Tutto molto più semplice Ragazzi abbiamo trovato il modo per rimanere in orbita Cazzo sì Possiamo scendere di tantissimi Cioè di quanti blocchi ci pare Lì è in massima Perché non c'è nessun tipo di problema Quindi Beh Complimenti a me Siamo stati bravi Stavolta Guardate come funziona stra bene E possiamo scendere di qua Di tipo 14 blocchi È una cosa clamorosa Tac 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 Grandi ragazzi Ok Siamo arrivati al capolinea Qua non possiamo più scendere Però possiamo andare a fare No l'ho perso Ok No l'ho ripreso Ecco lo sta qui Va bene Ora La domanda è una Tipo io come faccio A fare Ok Dovrei tipo Arrivare Lì Ok Scendere E fare una roba del genere Hop E poi penso basta Perché non è che possiamo scendere Quanto ci fa Cioè Va bene così Arrivati qui a 14 A livello Basso Basso Tipo 14 Questo penso sia a livello perfetto No per fare sta roba Cioè possiamo iniziare a costruire Da qui no Giustamente E è massima Si può fare Certo che si può Dai cazzo Si va bene È abbordabile Il punto è che devo farmi Di nuovo tutto il contorno Tipo Ecco Da qui Iniziamo a costruire Questo sarà il nostro livello base Perché oggettivamente ci può stare Adesso devo togliermi tutta sta robaccia Però dai no Va bene È abbastanza alta come base stellare Quindi si Da qui Iniziamo a costruire Eccoci qua Ho completato il tutto E adesso iniziamo a lavorare Su sta base Che potrebbe essere Qualcosa di eccessivamente figo Allora on dance Che cosa andiamo a fare Per prima cosa Per prima cosa direi Di creare il passaggio No tipo Questo so che è la parte centrale Dove c'è tutta sta roba bella Carina E tutto il resto Ci andiamo a fare Tutto sto bel passaggio Ne qua Questi saranno Le mura Sarà larga Tre insomma Sta struttura Lì è massima Nulla di particolarmente Enorme Eccessivo Però Ci sa Ci serve No Cioè non può essere Tanto larga Neanche troppo piccola Va bene Tre penso sia Onesta come cosa Cioè adesso la vedete di cinque Però vi faccio vedere Qual è il punto So che così fa anche Abbastanza schifo Però la dovevo allargare Ancora un po' Non so quanto si vede Quanto si riesca a vedere Però da qui sicuramente Si vede molto bene la terra La terra poi Cioè siamo alti Siamo alti Siamo altissimi Per carità Dovevo trovare un modo Per riscendere Poi non so se esista Se sia possibile Però ci proveremo Adesso voglio fare una cosina Guardate con l'ossidiana E il call block I call I block di call Se riesco a non Magari a non perdere i cosi Sarebbe eccessivamente carina La cosa Però vabbè ci sta Uno Due Tre Quattro Cin Tac No vabbè ok Non si può vedere Ossidiana e call Tipo Scena La questione È veramente bruttissimo Utilizziamo soltanto il call Facciamo una bella figura Poi magari andiamo A riprendere qualcosa Allora Dato che doveva essere Una roba del genere Si deve vedere Quindi Tipo Tac Tac Quando la facciamo alta Tre blocchi Tre per tre Tre per tre Un tunnel Tre per tre Ok Ce ne dobbiamo mettere Necessariamente un altro Altri due Per fare sta roba Tac Così Se è tre per tre Ce ne deve essere Tre per forza E quindi Questa saranno Ogni stanza Sarà separata Da sta roba qua Perché è figo Vedere del nero Adosso a sto coso O lo facciamo più largo Oddio più largo Sarebbe figo eh Perché si vede proprio bene No vabbè Per coppia Più largo è brutto Poi alla fine Cioè tipo da dentro Ti vedi sta parte di transizione Poi vai tranquillo Intanto ci metti Tutta sta Tutta sta Bella roba intorno E gasa Bestia Per carità Perché è tutto ferro Poi magari se ci vuoi mettere Qualche oblo Qualcosa del genere Il vetro l'ho portato Con me Assolutamente sì Ehm Altra piccola nota Questa parte sopra Io non la metterei Per dare tutto un po' Una forma meno Incazzata alla nave Cioè nel senso Capite quello che voglio dire Sì esatto Capitelo Perfetto E' più arrotondata E' più stagliata E' più carina Insomma se la fate tutta Oddio pesante Roba è brutta Quindi Così Is the way Come al solito ragazzoli Potete spizzarrirvi Con idee Texture Roba varia Che potete mandarmi Tranquillamente Sulla pagina facebook E tutto il resto Detto questo Sì Sto aspettando I vostri layout Ragazzi L'idea mi era venuta Anche tipo Facciamo una figata E trasferiamo Tutto qua sopra Cioè tentiamo Di riportare Tutte le farm Tutto il farmabile Tutto quello che è farmabile Possiamo produrlo qua sopra Cioè arrivare A avere una base Stellare Con tutto quello che è possibile Avere Cioè nel senso Autosostenere Proprio full Al 100% Con farm Di tutti i tipi Il che è assurdo Purtroppo Alcune farm Non possono essere Realizzate Guardate la farm Di mob O la farm Di ferro Dipenderemo In linea di massima Sempre dalla Nostra madre patria Però in linea di massima Ci possiamo staccare Tutto il resto Questo Devo creare Il suo sistema Di collegamento Tra sopra e sotto Però in linea di massima Ci siamo Ragazzi Abbiamo creato E' meraviglioso Abbiamo la base lunare In tutti i casi Penso che per questo video Possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se vi è piaciuto Iscrivervi al canale Se l'hai già fatto Di condividere il video Su facebook Per farmi uscire a nuove persone Vi raccomando Posta in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram Noi siamo con Malzoria Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi